in cabina Valerio Pavesi, ciao Valerio giusto il tempo per cambiarsi per scambiarsi, per metterti la maglia da gioco giustamente, perché prima eri ospite adesso ti sei messo invece la maglia da gioco ritroviamo, anzi troviamo Simone Barbazzo ciao Simone, ben ritrovato ciao a tutti questo moto di entusiasmo arriva da Marcello Chirico buonasera Marcello e fa la vita sei contento? ma non devi andare a mungere legge capre non devi andare a mungere legge tu non hai notato questa cosa ti faccio arrabbiare ancora di più non solo è venuto qui per guffare la Juve e te lo dico già apertamente ma lo fa in maniera guarda, va che maglia che c'è addosso va che roba hai capito? questa è pesante è pesantissima questa vieni a una televisione vieni a una televisione seria nazionale e ti vesti così come un pirla ma dai, ma vestiti bene mettiti una camicia ma guarda come mi stanno bene questi colori addosso si, si che fa la vita meno amara mi sono comprato una chitarra e questa maglietta di Murigno ma vai anche convinto di essere un bravo cantante quando beccandà ho la sensazione che ti ferà Roma ho la sensazione che ti ferà Roma ho la sensazione che ti ferà Roma quando beccandà che Chirico prende lo scoppolone fiori dell'illà hai capito Marcello? che mori porti verso il primo amore tutta tutta la dobbiamo sentire forza Murigno dagli a Chirico lo scoppolone questa è una ripetizione Marcello questa è morire nessuno morire nessuno sai Marcello questo mette guarda Marcello questo mette mette veramente a dura prova il tuo consueto fair play bene è partita Roma-Juventus formazione ufficiali Valerio decidiamo le formazioni ufficiali mentre la partita è appena iniziata partiamo dalla Roma che si schiera con un 3-5-2 Murigno manda in campo Rui Patricio tra i pali difesa 3 formata da Cristante Smalling e Ibanez al centro campo viene schierato subito l'acquisto prelevato dall'Arsenal Niles sulla destra mentre Vigna andrà ad occupare il reparto sinistro del campo con i centrali Veretum Mkhitaryan e Pellegrini in attacco Hebram e a sorpresa viene schierato Felix risponde la Juve Di Allegri questa sera assente per squalifica quindi in Pachina ci sarà Landucci risponde con un 4-3-3 Scesni in porta difesa formata da Quadrado a destra confermato di Sciglio sulla sinistra difensori centrali disponibili praticamente gli unici Rugani e Delicte centro campo con McKennie Locatelli e Bentancur questa volta fuori Rabiot il tridente d'attacco Chiesa Ken viene lasciato fuori Morata turno di riposo per lo spagnolo Di Bala ad accompagnare gli altri compagni di reparto arbitro Massa Alvar Di Paolo Forza Juve stasera è complicata tutti insieme dobbiamo farci Angolo Roma sì angolo Roma è stato Felix a mettere il pallone in mezzo deviato da De Sciglio dunque la Roma potrà usufruire di un altro corner 10 e 15 sul cronometro andrà il numero 17 a battere in 10 minuti 4 angoli stanno attaccando in modo molto molto prepotente calcio d'angolo parte il traversone via rete rete ha segnato Ebram ha segnato Ebram Roma in vantaggio 10 e 33 Vucati centralmente come al solito no ma poi già l'hai preso primo un colpo di testa uguale di nuovo te lo fai rifare siamo adesso 11 minuti di gioco Roma in vantaggio con Ebram dormita totale perché la pala è finita credo a cavallo dell'area di rigore piccola ha saltato indisturbato quasi indisturbato sì pazzesco guarda lì non c'era nessuno no guarda sia Rugani è andato a vuoto la margatura di Rugani non lo tiene mai dai 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 ragazzi dai Rugani cosa ci fa ancora nella Juve ma un gol da principianti prendiamo da principianti Di Bala Rato pareggiamo 17 e 38 con un tiro da fuori aria con il sinistro Paolino la mette dove lui Patricio non può arrivare proprio nel momento più difficile raggiunge il pareggio la Juve e grande gol di Paolino Di Bala l'azione di Chiesa sulla sinistra il passaggio in mezzo tiro di prima intenzione con lo stop lui Patricio non può nulla 1-1 dai attenzione alla ripartenza della Roma con Veretout il passaggio verso Pellegrini si vuole verso l'area sul versante sinistro c'entra in questo momento Pellegrini il destro ha deviato calcio d'angolo che sofferenza bestiale la Roma potrà sfruttare l'altro corno la Roma in ripartenza è pericolosissima poi però apriamo una parentesi sulla fase difensiva della Roma continua a arrivare fino alla linea la squadra sono spaccata in due completamente la zona del centrocampo non c'è in questo momento da una e dall'altra parte signore ragazzi Mkhitaryan Mkhitaryan che la palla credo fosse indirizzata in rete 48 minuti di gioco il vantaggio della Roma con Mkhitaryan la Juve è di nuovo sotto vediamo di chi è stata una deviazione anche qui praterie per Mkhitaryan l'assist di Pellegrini De Sciglio De Sciglio la devia con credo proprio con il tallone attenzione a Pellegrini il destro rete ha segnato la Roma mamma che punizione mamma che punizione non è di pazzesco pazzesco e sto triplete fatta il col pennello chiri chichi 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 e famo non è non è chichi ma che c'è fredda ma che c'è ancora c'è mezzo al vino che ne sarà qua e non che dìmo e non che famo tu devi ringraziare chi ricchi chi non è lì perché se chi ricchi chi era lì ma tu dovevi vedere come uscivi da lì mamma ragazzi ragazzi però la pulizia di Lorenzo Pellegrini è tantissima roba e se è Locatelli Locatelli 3 a 2 sul cross di Morata la Juve riapre la partita grande azione sulla destra da parte di Alvarito il cross in mezzo e Locatelli di testa in sacca andiamo non voglio dire niente non voglio dire niente non voglio dire niente andiamo e basta tu devi dire al cantore al cantore lì delle precore al cantore che c'è il tuo pronostico c'ha puff e lui che cosa avevo detto non ne azzecchi una ma volevo non ne azzecchi una dai dai intanto mi f***o vai seeeeee seee 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 cosa fuori gioco cosa nooo 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 ci chiediamo insieme allora l'arbitro ha fischiato qualcosa ve lo posso non siamo impazziti ha alzato il braccio non ho capito gioco fermo all'olimpico l'arbitro ha alzato il braccio quindi in questo momento per un fuori gioco non so di chi probabilmente in partenza sul cross di qualcuno da capire l'arbitro dice state a distanza adesso boh cerchiamo di capire anche noi avrebbe segnato Kulusevski il gol del tre pari però attenzione perché c'è gioco fermo sta decidendo adesso si sta confrontando col bar se segna Kulusevski dai 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 già che si parlano non è così sicuro comunque ma deve andarlo a vedere questo è il rischio deve andarlo a vedere sull'offside no sull'offside no vabbè ho capito ma se c'è il check ho capito però ma non c'è l'offside io non l'ho visto nessuno se il dubbio è il fuorigioco no essendo una cosa come dire magari si sul fuorigioco si è la geometrica non è una decisione dell'arbitro in questo caso alla Varum a Lissone staranno guardando ti giuro che ti aspetto ti aspetto appena guardi lo giuro che ti aspetto oh la mamma si si Simoncino ti piace Simoncino Simoncino c'è Marcello Chirico c'è Marcello Chirico che ha già acceso la macchina e sta per arrivare a Milano farà la Torino-Milano in 20 minuti più o meno Simoncino deve ringraziare che non sono lì che se no gli facevano barba e capelli a Simoncino lui sai come ti chiama chi 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 dai ragazzi allora la decisione è un po' complessa io devo dire la verità non ho capito abbiamo bisogno di rivederlo anche noi mai che la pareggiamo dai che c'è ancora tempo andiamo a vincere questa partita non è bello che lui aveva detto avete visto che me l'avevo detto vai vai grazie sai che questo è il prossimo zeli che puoi presentare questo presenti la cassetta come si faceva una volta e mungere le capre anzi devi anche arare la terra io non ci credo non ci credo non ci credo io non ho parole io raramente ho visto qualcosa del genere ma come cosa ha segnato vieni qua marcello vieni che ti aspetto vieni marcello vieni simoncino simone chi c'è c'è ancora pensavo fosse andato a casa simoncino non canta più che 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 Milano Abebe già zarare un retro perché questa cosa stiamo sono andati c'è molto buono Grazie a tutti